musica 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 Antonio ma cosa ci fai qui sei impazzito per colpa tua ed è il tuo ultimo bacio ma era un bacio da dio non da dio da dia quella un bacio troppo importante mi ha fatto capire quello che provi anche tu dentro per me ma quello che prova non conta io sono una donna con delle grandi responsabilità io non posso fare colpi di testa invece l'ho già fatto il colpo di testa infatti questo fine settimana dovevo tornare a sorrento e a tua moglie cosa hai detto dovevo venire ai paesi baltici per firmare un importante accordo energetico per la comunità europea esagerate ma noi napoletane quando andiamo a vendare la palla andiamo grossa senza offesa allora ti prego Antonio devi andare via sarebbe una storia impossibile scordami ti prego rivediamoci una volta su io sto al Grand Hotel mi telefoni mi chiami Olga e Olga chi ama chi ha balticolì balticolà cagata tutta eh tutto il nuovo zucuza ma ma gnocano è 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